La nuova puntata di Booksland, come tradizione ormai di questo programma abbiamo un nuovo ospite che è Riccardo Cepac. Riccardo Cepac è qua in quanto amante dei libri prima di tutto, ma poi anche perché in questo periodo c'è una mostra da lui curata al Museo Sveviano dal titolo bellissimo che è Guarire dalla cura. Cominciamo da qua? Sì, questa è una mostra che in realtà è da diverso tempo che è stata vestita, è stata aperta, è aperta in dicembre.